Natalia Foggia tra storia e tradizione. L'Associazione Qualità della Vita opta alla vigilia delle festività di fine anno per una full immersion tra passato e presente delle tradizioni foggiane. Ieri nella sala del Palazzetto dell'Arte dedicata ad Andrea Pazienza, Raffaele De Senen, cultore della storia e delle tradizioni foggiane, Michele Sepaloni, appassionato di fotografie e di scatti della vita quotidiana foggiana, lo chef Nicola Russo, moderati dal giornalista Piero Russo, hanno fotografato identità e storia del Natale Foggiano. Noi abbiamo il dovere morale di ricordare le nostre tradizioni, la nostra storia di cui dobbiamo essere fieri ed orgogliosi. Sia in ambito culinario, non è possibile immaginare un Natale senza le cartellate, i nostri dolci tipici, ma anche dare un senso più alto, più ampio a questa parola tradizione. Pensiamo ai cori e ai canti di Natale dei nostri nonni che noi abbiamo ereditato e che abbiamo il dovere di tramandare, oltre alle abitudini ataviche legate al periodo natalizio, si pensi al presepe e a tutte le altre recite, immagino, in età scolare, che riguardano la nostra tradizione cattolica e cristiana e penso alla Natività. Sono tutte abitudini che noi non solo dobbiamo tramandare ma difendere con grande forza, soprattutto in questo momento nel quale assistiamo sempre di più a chi, in nome di una integrazione, vuole togliere i crocifissi dalle aule scolastiche. Il momento, insomma, offre anche l'occasione a Miranda per affermare convintamente una posizione politica netta. Credo che sia arrivato il momento. Noi non dobbiamo cedere al relativismo che sta letteralmente minando le fondamenta dell'Occidente del mondo. In nome, dicevo prima, di una integrazione che non si fa togliendo qualcosa, l'integrazione lo si fa aggiungendo le positività delle varie culture, ma mai rinunciando a quelle che sono le nostre origini, che sono portatrici di bene, grazie. Grazie a tutti.